Amici di Monolite Notizie, siamo al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro, ma prima di tutto mettete mi piace, anzi mettete un cuoricino su Monolite Notizie, seguiteci e condividete i nostri contenuti. Stasera vi raccontiamo lo spettacolo di Antonio Cornacchione che si intitola Deo Ex Machina. Venite con me! Stasera! Siamo insieme a un maestro della comicità che ci ha regalato veramente tante emozioni. Stasera Antonio Cornacchione in Deus Ex Machina ci fa fare questo viaggio nella storia, nelle pagine dell'Olivetti. Olivetti è un nome famosissimo. Esatto, lo spettacolo si intitola Deo Ex Machina, nel senso che Deo è l'acronimo di Divisione Elettronica Olivetti, che era, diciamo così, la divisione che si era inventato Adriano Olivetti per studiare i primi computer. Questa è la storia di questa divisione e poi della sua venduta alla vendita, venduta non è bello. Lo dobbiamo rifare maestro? No, andiamo avanti. Fa ridere! Maestro è un bidello qui. La vendita agli americani, questa è in poche parole, la storia di questa, che poi appunto è una storia assolutamente vero, io mi sono formato su dei libri che dopo faccio anche vedere al pubblico, quindi non, è la verità, non ideologica perché la verità non è mai ideologica, la verità è oggettiva e quindi parliamo di questa storia. Ma perché sei incuriosito a questa storia? Mi sono incuriosito perché io sono un ex dipendente Olivetti, ho lavorato dall'81 all'89 alla Olivetti. Ma pensi, pensi sui colleghi, che divertimento! Infatti io sono scappato proprio il giorno prima che poi Olivetti andasse gambe all'aria, diciamo sono stato più veloce di... Avevo capito che qualcosa non andava bene, come ad esempio molti dirigenti che si erano diciamo così licenziati e poi assunti all'IBM, quindi qualcosa avevo capito e quindi sono stato... mi sono licenziato proprio appena prima che lo facessero loro. E quindi diciamo... Mi sono licenziato, fanno un grande gesto. Come rivinci adesso a qualche anno di distanza? E dopo tanti anni ho detto chi è che può raccontare questa storia? Chi meglio di lei? Eh, sono nato apposta. E saprà anche di tutti retroscena? Sì, no, io racconto una storia che è un po' antecedente alla mia venuta all'Olio, perché qui parliamo degli anni addirittura 50-60, io ero nell'Olivetti di De Benedetti. Però insomma di queste storie si parlava ancora in azienda, ancora c'era un po' il segno di Adriano Olivetti e di Camillo Olivetti. Magari faremo un altro spettacolo sull'Olivetti di De Benedetti, però un'altra volta, adesso ci concentriamo su questo. Senta maestro, le posso chiedere la sua impressione arrivato qui a Colleferro nel vedere questo teatro che è un piccolo gioiellino, il Vittorio Veneto? Ah, dunque, no, Colleferro ancora non l'ho visto perché sono venuto subito in teatro, però il teatro mi sembra già una bella casa, è molto accogliente, si sta bene, mi hanno accolto veramente festosamente, mi chiamano tutti maestro, non so perché, mi hanno anche dato, c'è un gradito buffet, mi trattano benissimo, io quasi quasi resto a Colleferro. Ma io la sto trattando bene perché immagino che poi mi offrirà qualcosa. Sì, sì, ci sono lo hacker, ci sono delle belle cose. Ci vediamo sul palco, noi tutti. E ci vediamo dopo, sì, io vi aspetto, grazie. Grazie mille. Amici di Monolite Notizie, al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro in compagnia del primo cittadino Pierluigi Sanna per questo spettacolo all'insegna del divertimento, una sala che si sta riempendo. Sì, anche stasera praticamente è sold out, una grande soddisfazione per la mia città. Questa sera Cornacchione ci ricorderà Adriano Olivetti, uno dei più illuminati imprenditori italiani, una storia di fabbrica, di lavoro, di libertà e di democrazia che assomiglia molto a quella della nostra Colleferro. Verissimo, Sindaco. La città di Colleferro sta facendo grandi passi all'insegna anche della riqualificazione. Tanti spazi, come quello dell'auditorium, tra poco verranno restituiti alla città con una rinnovata veste, vero? Assolutamente sì, l'auditorium ospiterà una grande scuola di musica al piano superiore, nascerà di fianco del Museo archeologico anche la scuola di formazione ambientale, altri spazi per le associazioni come quello di Colle Sant'Antonino che avrà la sua casa delle associazioni civica, una Colleferro che cresce, cresce nei luoghi di aggregazione, nella socialità, nel confronto e nella cultura. Non vediamo l'ora di seguire i prossimi eventi, compresi quelli al castello, anche lì state facendo delle opere, vero? Assolutamente, il castello con un investimento di circa 3 milioni di euro fra PNRR e Giubileo diventerà anch'esso un luogo di cultura con il restauro delle mura, la messa a disposizione dei cortili e degli edifici. Intorno ad esso nasce la più bella villa comunale che Colleferini potessero auspicare, con centinaia di alberi e posti per passeggiare e per stare insieme. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Grazie.